Si sta procedendo ad inserire all'interno dell'urna le squadre Prima squadra sorteggiata Bologna Nel girone A Team Italia nel girone B Molteno nel girone A O terzo B Nel girone B Grossetto A Nel girone A Carpi Nel girone B O terzo A È la quarta squadra del girone A Grossetto B Invece Inserita nel girone B Passiamo ora alla quinta squadra L'ultima del girone A Si tratta del 20 miglia Girone A quindi completo con Bologna Molteno Grossetto A O terzo A E 20 miglia Ultima squadra da sorteggiare Per quanto riguarda invece il girone B Ed è il cellini Padova Completa dunque la griglia per quanto riguarda i due gironi Del campionato di beach handball maschile O terzo dalla 30 giugno al 2 luglio prossimi Bologna Molteno Grossetto A O terzo A E 20 miglia nel girone A Nel girone B Team Italia O terzo Carpi Grossetto B E Cellini Padova Si passa invece ora alla ventesima edizione del campionato femminile In grafica vediamo le squadre Sono Mezzocorona Conversano Salerno Oderzo Cassano Magnago Leno Dosso Buono E Grossetto Il sorteggio Suddivide le compagini in due gironi da quattro A seguire semifinali E finali Terzo Quarto E primo Secondo posto Ventesima edizione In questo caso Era la ventiduesima Al maschile anche qui dal 30 giugno al 2 luglio prossimi Ad Oderzo E anche qui le squadre vengono inserite tutte In una sola urna Dalla quale poi prenderanno vita due gironi da quattro squadre Vediamo le squadre che vengono inserite all'interno dell'urna Dell'unica urna necessaria per questo sorteggio E si procede Con Il sorteggio dei gironi Della fase preliminare Preliminary round Del campionato italiano femminile di beach and ball Mezzo corona E' la prima squadra estratta Girone A Cassano Magnago Nel girone B Salerno Nel girone A Con il mezzo corona Seconda squadra del girone B Oderzo Girone A Ancora terza squadra Che si aggiungerà a mezzo corona e Salerno Leno 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 Girone B Groseto Grosseto Ultime due squadre La quarta del girone A La quarta del girone A E' il Dossobuono Completo quindi il girone A Con mezzo corona Salerno Leno E Dossobuono E nel girone B L'ultima squadra Ovvero il conversano Girone A Con mezzo corona Salerno Leno E Dossobuono Girone B Cassano Magnago Oderzo Grosseto E conversano Questi gironi Della fase preliminare Dei campionati italiani Di beach and ball femminili Dal 30 giugno Al 2 luglio Prossimi a Oderzo Stessa data Stessa sede Per il campionato maschile Con il girone A Che vede Bologna Molteno Grosseto A Oderzo A E Ventimiglia Girone B Con Team Italia Oderzo B Carpi Grosseto B E Cellini Padova Il video integrale Del sorteggio E il riepilogo Dei gironi Tra pochissimo Su FUGH.it Grazie per essere stati con noi E come sempre Buona pallamana a tutti Alla prossima